Buongiorno ragazzi e ragazzi, siamo rientrati a casa dalle vacanze. In questo video vedrete quello che avevo registrato giù a casa al mare appena ero arrivata perché avevo intenzione di continuare a pubblicare i video su YouTube ma purtroppo ho avuto problemi con il modem esterno per la connessione internet quindi ho registrato questo video e poi mi sono fermata. Quindi oggi vedrete questo video che ho registrato al mare ma in realtà io sono rientrata qui a Roma e poi dalla settimana prossima riprenderò a fare i video direttamente qui da casa perché ci sono veramente tantissime cose da fare e tante novità che vi voglio mostrare e quindi intanto vi lascio il video registrato al mare e ci vediamo presto nei prossimi giorni con nuovi video e nuove novità. Un bacione! Buon pomeriggio ragazzi e ragazze, nuovissimo video direttamente da casa al mare e noi siamo arrivati stamattina, abbiamo disfatto le valigie, abbiamo rinfrescato casa quindi da adesso in poi iniziano le vacanze finalmente perché comunque abbiamo anche dovuto rifare un pochino di pulizie perché naturalmente le terrazze si erano risporcate eccetera eccetera Comunque adesso iniziamo un nuovo vlog qui al mare e più tardi andremo a fare una passeggiata quindi vi portiamo con noi quindi ci vediamo dopo Stiamo scendendo giù in spiaggia, è quasi l'ora del tramonto quindi stiamo portando anche chi a fare una passeggiata perché naturalmente mi sono portata sia io che Duchessa qui al mare quindi scendiamo, tra poco siamo in spiaggia Arrivati sul lungomare Chi ho innamorato del mare, cioè vorrebbe entrare Che spettacolo ragazzi, non mi sembra vero Cioè poi a quest'ora si sta benissimo Adesso ci godiamo un po' una passeggiata al tramonto Il sole sta scendendo Qui c'è l'area a barche, l'altra volta non ve l'ho fatto vedere Ma c'è un'area delle batte Qui c'è un'area a barche Qui c'è un'area a barche Qui c'è un'area a barche Siamo qui a fare una passeggiata a questo percorso Dove ci sono tutte queste piante vegetative proprio di mare Cioè sabbia e queste piante qui cactus eccetera eccetera Molto carino anche questo posto Ecco qua siamo noi tre Mio marito ecco lo vedete dalla sua ombra naturalmente Visto che qualcuno di voi dice ma non si fa vedere Lui è riservato Quindi vedete l'ombra di mio marito Mi piace questo percorso perché è tipo giungla È molto selvaggio Qui siamo proprio sul mare Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma prima vi volevo far vedere un'altra decorazione che ho aggiunto alla terrazza della camera che non ho fatto vedere durante l'home tour qui di casa al mare. Quindi adesso vi faccio vedere la nuova decorazione di qua in terrazza. Praticamente abbiamo anche aggiunto il tavolo con le sedie che prima non c'era. Allora eccolo vedete qui abbiamo messo il tavolo con le sedie qui nella terrazza e qui ragazzi in questa parete ho aggiunto la rete da pesca che di là ce l'abbiamo chiara. Di qua ce l'abbiamo blu vedete con le conchiglie molto carina e ci sta veramente bene su questa paretina. Mi piace un sacco qui abbiamo appoggiato questo carrelletto perché più tardi andiamo a fare la spesa andiamo a prendere un pochino di cose e dobbiamo metterle qui. Ma in teoria diciamo ecco ho adibito anche la terrazza della camera. Qui c'è Duchessina. Lei fino adesso non me l'avevo fatta vedere ma c'è anche lei che gira per casa. Ciao amore. Ciao cucciola mia. Ciao. 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 Qui ragazzi come potete vedere abbiamo fatto già la prima lavatrice perché siamo arrivati appunto da pochi giorni. Sto registrando di meno ragazzi perché mi sto un pochino godendo la vacanza. Comunque ecco insomma abbiamo aggiunto anche qui il tavolo con le sedie perché qui il pomeriggio si sta insomma benissimo. Poi quando siamo in camera comunque almeno ci appoggiamo anche di qua in terrazza e questo sotto al giardino dei vicini come potete vedere. Eccolo qua. Qui siamo. Appunto abbiamo questa visuale lo faccio vedere per chi non l'ha visto. Invece questa praticamente è l'altra rete. Vedete che questa è chiara differenza di quella che vi ho appena fatto vedere. Qui ragazzi stiamo praticamente abbiamo steso i teli da mare per fargli prendere un po' d'aria ma adesso li rimetto nella borsa perché dobbiamo scendere. Qui siamo appunto in terrazza. Allora ragazzi siamo tornati dalla spiaggia. Allora devo preparare una cena veloce perché poi dopo cena usciamo. Quindi farò questa sfoglia tonda e la riempirò con degli ingredienti che ho da consumare. Però voglio fare allo stesso tempo comunque una sfoglia gustosa. Allora ho messo la sfoglia che è tonda in questa teglia. Adesso la vado praticamente a riempire con degli affettati che devo consumare e altri ingredienti. Allora devo consumare queste patate da forno. Praticamente io le vado a versare direttamente nella sfoglia. Leviamo questo pezzetto di ghiaccio. Ecco qua. Perfetto. Adesso ci aggiungo un goccino di olio. Aggiungo poi un pizzico di sale. Così non si spreca nulla. Utilizzo la sfoglia, utilizzo le patate. Adesso vado a mettere delle fette di arrosto di pollo. Praticamente penso che in pochi hanno visto una torta rustica con questi ingredienti. Allora, cerchiamo di sistemarla carina, in modo carino. Allora, così. Così. Tanto questa, mentre ci facciamo le docce, la inforno e si cuoce. Così poi accenniamo e siamo pronti per uscire. Stasera abbiamo un evento in spiaggia. Ed ecco qua. Perata di parmigiano. Metto un po' di mix di pepe. E la vado praticamente a chiudere facendo il bordino. Ed eccola qua ragazzi. Ho riaggiunto anche un goccino d'olio. E basta. Non aggiungo altro. Così ho consumato gli ingredienti, le patate che erano poche. E l'arrosso di pollo. Inforno i tutto. E così poi. Buongiorno. Allora. Adesso prima di scendere in spiaggia faremo delle piccole pulizie qui a casa al mare. Devo lavare le tazze della colazione. Pulire il bagno. Sistemare il pavimento. Insomma delle pulizie un po' veloci. Generali. Anche perché quando si sta in vacanza. Non mi voglio mettere a fare grandi pulizie. E quindi niente. Adesso ci mettiamo al lavoro. E poi dopo più tardi scendo in spiaggia. Allora adesso ho preso la spiaggia. Aspiravolvere perché dato che ho comunque gli animali. E poi possiamo portare la sabbia dalla spiaggia. Tutte le mattine do una bella aspirata veloce veloce. Così i pavimenti sono sempre tutti belli puliti. Una volta passato l'aspirapolvere dappertutto do tutte le mattine una passata veloce con il mocio e un detersivo classico appunto per i pavimenti. Se qui al mare ho fatto una scorta ce ne ho diversi. Perché vedete che può succedere che magari qualche pavimento vedete si sporca. Poi i pavimenti bianchi sono molto delicati. Quindi velocemente lavo per terra. Così almeno il pavimento di tutte le stanze è pulito e sistemato. Come vedete il bagno lo abbiamo utilizzato. Aspettate che accendo la luce. È tutto bello schizzettato perché naturalmente è stato utilizzato. Quindi adesso vado a pulire tutti i giorni. Una cosa che faccio fissa pulisco proprio tutti i sanitari e la doccia. E poi mi occupo del pavimento. Il bagno lo pulisco con smac gel bagno che questo è anche a base di candeggina. Quindi vado a dare velocemente una insabonata per igienizzare il tutto. Anche perché ragazzi poi devo veramente scendere in spiaggia perché mi voglio andare a sdraiare sul lettino. E poi andarmi veramente a fare un bel bagnetto. Quindi pulizie molto molto veloci. Io ragazzi con circa mezz'ora pulisco tutte le pacche più importanti di casa. Quindi proprio cerco al mare di ottimizzare i tempi. Perché poi la pulizia a fondo di solito la facciamo prima di venire proprio in vacanza. Facciamo proprio le pulizie a fondo di tutto. Piastrelle, pavimenti, insomma di tutto e di più. Quindi adesso asciugo per bene. Ecco qua vedete ragazzi con un attimo ho pulito tutto bello il lavello. Ho dato anche una passata qui a tutto lo specchio. In modo tale che è tutto bello pulito e igienizzato pronto per essere riutilizzato. Pulito anche doccia, wc e bidet. Adesso passo l'aspirapolvere e poi laviamo il pavimento. Anche questo lo igienizzo tutti e tutti i giorni. Ragazzi come avete potuto vedere in pochi minuti ho praticamente pulito tutte le parti essenziali di casa. Poi di solito la sera prima di uscire pulisco anche le due terrazze. Le spazzo e lavo il pavimento. In modo tale che tra la mattina e la sera ho sempre tutta la situazione delle pulizie sotto controllo. Igenizzato perché comunque voglio avere casa pulita e ordinata anche quando sono in vacanza. Il minimo lo faccio sempre. Niente ragazzi questo è stato un video un po' misso, un video leggero, un video di intrattenimento. Perché naturalmente sono in vacanza e mi sto un attimino godendo un pochino di relax, un pochino di mare. Quindi ho rallentato un pochino ma tornerò più carica di prima anche perché poi ragazzi al mio rientro ci saranno tante novità. Veramente ci saranno tante pulizie, tanti metodi e tanti lavori perché io tra l'altro sto facendo anche qui delle ricerche e ho trovato dei prodotti ottimi da mostrarvi e naturalmente che prima dovrò testare. Niente ragazzi allora ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando se siete in vacanza trascorrerete buone vacanze, se siete a casa, al lavoro o dove siete insomma cercate di trascorrere al meglio. Vi mando un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciatevi un like e seguitemi anche su Instagram. Mi trovate sempre come federicasuit02. Un bacione immenso.